Giorno 23, 24 e 25 settembre, perso il Ludo Village area Machitella, è prevista la prima edizione di Biologic, una fiera in cui si parlerà di coltivazione biologica, utilizzo della canapa per le matrici agroalimentari, medicale, industriale e risanamento ambientale. È un'occasione per confrontarsi con il mondo della trasformazione dei prodotti biologici per le applicazioni di uso comune. Sono previsti dei convegni delle società che vengono anche dall'estero a spiegare come hanno trasformato la canapa in prodotti di uso comune. È un'occasione per confrontarsi con la nuova industria, l'industria sostenibile, l'industria green che questa amministrazione sta abbracciando per ridare un nuovo volto industriale alla città di Gela. La canapa è una pianta che si coltiva, si coltivava anche qui a Gela da 10.000 anni, è terminata con l'avvento della petrolchimica ed oggi sta ritornando prepotentemente in tutto il mondo perché ci ha dato dimostrazione che possiamo non solo bonificare in parte i terreni ma anche ricavare tante applicazioni, tra cui proprio quello che ci dà la petrolchimica, quindi a partire dalle energie, dalla plastica, dai tessuti, la carta, la biodilizia e fino a 50.000 applicazioni in maniera sostenibile perché rispetta l'ambiente volendo pochissima acqua, non chiedendo pesticidi e avendo un equilibrio perfetto di CO2. Per cui ad esempio Gela potrebbe essere candidata come sede di un polo tecnologico della canapa industriale che si coltiverebbe in tutta la Sicilia come già si sta iniziando a coltivare e poi verrebbe trasformata potendo dare una grande possibilità di occupazione, questa volta nel rispetto dell'ambiente.